Tene Stellin, Agostino Palese e Balallo. B'Ethiopia, Italia ambassadore negne. Taio, uleshi, asrahamsd, am temeret l'Ullum Ethiopian one, Salaam, l'Ullum Ethiopian one, Amas e Gnallu. Mi chiamo Agostino Palese, sono l'ambasciatore d'Italia in Etiopia. Auguro a tutti gli etiopi un felice 2015 e una pace prospera per tutti e che sia finalmente un anno di pace. Salaam, l'Ullum Ethiopian one, Amas e Gnallu.